Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Come sempre andiamo a conoscere insieme le prime pagine dei giornali regionali e nazionali in questo giovedì 10 settembre. Iniziamo subito dall'Abruzzo, dal Quotidiano Il Centro, questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Il titolo di apertura è dedicato alla cronaca, rissa in strada, bastonate, Pescara notte da Bronx a Fontanelle, i residenti dicono basta. Nelle cronache ancora in Montesilvano, antimafia, la DIA blocca l'appalto per la strada. Una ditta di caserta impegnata nella realizzazione di una delle opere pubbliche principali di Montesilvano, il completamento di via Saragat, sarebbe finita nel mirino della direzione investigativa antimafia DIA di Napoli. E poi in Pescara, l'emergenza occupazione, magazzini in crisi, risparmio casa, chiude e licenzia. E ancora in Pescara, lezioni tra i disagi, alberghiero diviso in sette sedi, si ai bus, navetta. Poi a centropagina, il giallo di Međugorje nella fotonotizia ripresa dalla trasmissione di Rai3, chi l'ha visto, missionario scomparso, appello in tv, chissà parli. E' stato raccontato anche dalla trasmissione, chi l'ha visto ieri sera, il caso della scomparsa di padre Luciano Ciciarelli, il missionario di 79 anni, originario di Civitella Casanova, di cui si sono perse le tracce il 2 agosto a Međugorje, in Bosnia-Herzegovina. Le ricerche proseguono, ma c'è la paura per un possibile agguato. Poi di spalla l'intervento di Adriana Galasso, tra regole e prezzi, impariamo dal Prosecco, basta svendere i nostri vini, dunque un pezzo che riguarda il mondo della vitivinicoltura. Sotto nel taglio basso della prima pagina del centro, il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, Mancano i cavalli? Le alternative ci sono. Questo è il titolo in un articolo dedicato ad un caso curioso, la mancanza di cavalli, le corse tradizionali del settembre lancianese. A settembre a Lanciano ci sono le feste patronali, all'ippodromo solitamente si corrono le corse dei cavalli, in questo caso i cavalli mancano e dunque le corse sono state rimandate probabilmente al 20 di settembre. Torniamo ancora sulla prima pagina del centro, sotto la testata e richiami dal nazionale, pasticcio Casa Monica, bufera su Vespa per la famiglia Sinti, intervistata a porta a porta. E poi, sempre su questo argomento, l'opinione e l'editoriale di Vittorio Emiliani, questa tv pubblica confonde ed indigna. Questo è il titolo. Cambiamo prima pagina del centro, andiamo adesso a vedere insieme la prima pagina della edizione della provincia di Chieti, poi andremo a vedere insieme anche le altre prime pagine provinciali del quotidiano abruzzese. Allora, andiamo a recuperare la prima pagina del centro teatino, eccola qui, la possiamo vedere insieme. Morta la donna dell'ambulanza, ancora cronaca in primo piano, a Lanciano era nel mezzo che si è schiantato nel soccorso. Nelle cronache, finanze in comune a vasto, abuso e frode nelle feste 2013, sono due gli indagati da parte della Guardia di Finanza di Chieti, sull'assegnazione delle manifestazioni estive del 2013, fatte dall'aggiunta comunale di Vasto. Sulla vicenda era stata presentata una denuncia, le accuse, abuso in atti d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture, sono due, come detto, gli indagati. E sempre a Vasto, l'omicidio dell'8 marzo strangolò la convivente e va a giudizio. A Lanciano, invece, controlli di NAS e ASL, blitz nell'hotel, sequestri e cucina chiusa. A centro pagina la fotonotizia. Chieti la riforma del Papa svuota il Tribunale Ecclesiastico per annullare le nozze dall'8 dicembre, si andrà in curia. La riforma del diritto canonico, come detto, partirà l'8 dicembre e rivoluzionerà le regole dettate dalla Sacra Rota per annullare i matrimoni religiosi. Il procedimento per cancellare il sì, detto in chiesa, sarà più breve e il vescovo da mediatore diventerà giudice. Nella foto vedete i vescovi Bruno Forte ed Emilio Cipollone, che sono i due vescovi della provincia teatina. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Centro e adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'edizione di Teramo, sempre del giornale abruzzese, del quotidiano d'Abruzzo. Dunque andiamo a vedere insieme il titolo di apertura, riportiamo i soldi dall'estero. Dieci evasori teramani chiedono di far rientrare i capitali. Nelle cronache, in Giulianova e Roseto scuola a settimana corta, ok a Roseto no a Giulianova, salta dopo le polemiche la settimana corta a Giulianova, anche alla scuola media. Nella vicina a Roseto invece sono tutti d'accordo e le scuole ripartiranno con il nuovo orario che prevede il sabato libero per alunni e docenti. A Martinsicuro, in Val Vibrata, in 400 per un posto da vigile urbano e poi in Teramo il cartellone, grandi nomi per la stagione teatrale. A centro pagina un altro appello che arriva da chi l'ha visto e dal padre della 19enne trovata morta sulla autostrada A14. Il mistero della morte di Giulia adesso chissà parli. Questo l'appello del padre Luciano Di Sabatino genitore della ragazza di 19 anni di Tortoreto trovata dilagnata sotto un cavalcavia sull'autostrada A14 nei pressi del casello di Giulianova. La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio e l'uomo ha invitato le persone che hanno visto qualcosa a farsi avanti. Andiamo ancora avanti con il giornale Il Centro. Resta da vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali, cioè quella della provincia aquilana. Andiamo a recuperare insieme la pagina. Ancora cronaca in primo piano. Tenta di violentare la colfa Celano. Un giovane è stato denunciato. La moglie era in vacanza. Nelle cronache l'attentato, sempre in Avezzano, bruciata l'auto di un ambulante di Ortucchio. Attentato incendiario nella notte a Ortucchio. L'auto di un commerciante ambulante è stata data alle fiamme, forse con benzina cosparsa in più punti. La vettura si trovava parcheggiata davanti ad una villetta, indagano i carabinieri. In L'Aquila la polemica. Gran Sasso arrischio la stagione. E poi in Sulmona post terremoto solo quattro pratiche. Ricostruzione lenta a Sulmona. Le novità annunciate dal Papa, anche qui in primo piano, non solo nella edizione teatina, ma anche in quella aquilana. Annullare le nozze in Curia. Il giudice sarà Don Maggioni. Potrebbe essere il parroco di Cristo Re, Don Sergio Maggioni, che vedete a destra nella fotografia, vicario giudiziale del Tribunale della Diocesi e attuale cancelliere dell'Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, ad avere l'ultima parola in appello sulla nullità dei matrimoni per l'intera provincia ecclesiastica. Adesso cambiamo testata. Passiamo al messaggero. E dunque andiamo a vedere anche qui la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. In apertura la Carichieti 1 su 4 in esubero. Pronta la riorganizzazione dell'Istituto Bancario Tatino. mazzata sulla banca commissariata addio all'integrativo in eccesso da 140 a 190 dipendenti. E per chi resta scatterà il contratto di solidarietà. A centropagina il Far West dopo le bastonate tra fratello e sorella Pescara e Inferno in strada a Fontanelle gli agenti delle volanti riportano la calma. Ovviamente si indaga su quanto accaduto. E poi a centropagina la fotonotizia rapporto antimafia, gli appetiti dei casalesi sul post-sisma, la dia, le cosche sono ancora all'Aquila. L'antimafia racconta una verità scomoda per l'Aquila. Nell'ultimo report in Abruzzo operano personaggi legati a sodalizi criminali. I maggiori appetiti sono del clan dei casalesi. Nel taglio basso la videosorveglianza Il grande fratello sbarca a Vasto questo è l'articolo di Gianni Quagliarella 100 telecamere per la sicurezza dei vastesi tanti saranno gli occhi che vigileranno sulla città dai primi di novembre. Di spalla lo street food per Teramo ma senza olive alla scolana questa è la storia particolare che arriva da Teramo una kermesse di 5 sere a Porta Romana con l'ostracismo di natura calcistica ovviamente conoscete tutti la storia calcistica recente di Teramo i problemi legati alla partita Savona-Teramo e ovviamente la carella accesa con Ascoli che ha preso il posto del Teramo in Serie B. Teramo che è stato retrocesso in Lega Pro con 6 punti di penalizzazione. Torniamo sul messaggero Abruzzo sotto la testata il calcio Lanciano con Lascoli si giocherà a Guido Biondi e poi all'Aquila Gran Sasso la stagione sciistica ancora in alto mare e poi per quanto riguarda gli spettacoli e il teatro Riccitelli riparte la prosa ma spariscono i concerti. Il cartellone del direttore artistico Pagliai da Pirandello a Salemme proposte in nomi importanti senza la fondazione Tercas non saremmo qui, così si è detto durante la presentazione. E adesso andiamo proprio a Teramo andando sulla prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo andiamola a vedere insieme allora i disabili tornano in piazza questa è l'apertura scelta dal quotidiano Teramano proposte contro i tagli all'assistenza il comune annulli quella delibera vedete anche la fotonotizia delle proteste e poi c'è la riflessione di Marcello Martelli se i sogni muoiono all'alba difendere il Teramo vuol dire difendere la città dice bene il sindaco Brucchi la retrocessione della squadra di Campitelli non ci voleva e non solo per il popolo sportivo il maledetto evento penalizza tutto il territorio che nel salto in B aveva visto una specie di carro trionfante del vincitore restiamo sempre al Teramo Calcio perché sotto la fotonotizia troviamo i rebus attaccanti per il sodalizio bianco-rosso la società sta trattando per Rajcevic, Torromino e Paolucci di spalla a Giulianova piazza Dalmazia pronta per un restyling a Teramo nuovi sensi unici tutto bloccato nel put e poi a Roseto alle elementari si parte con la settimana corta sotto la testata cittadine politica criticano l'amministrazione tortoretani ostaggi della variante al PRG ad altri invece è slittata la sentenza sul punto nascita e a Martinsicuro figuraccia del PD sui meccanismi del bilancio scendiamo anche nel taglio basso della prima pagina della città per la cultura presentata la stagione di prosa della Riccitelli ce n'è per tutti i gusti adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani iniziamo dal Corriere della Sera la mossa di Putin nella crisi siriana i timori degli Stati Uniti il conflitto inviati mezzi ed armi soldati in azione dunque qualcosa si muove in Medio Oriente soprattutto nel conflitto siriano che è strettamente legato all'emergenza migranti che vedete nella fotonotizia Juncker ai paesi dell'Unione Europea dice accogliete chi fugge il paradiso danese chiude ai profughi al tramonto di ieri la Danimarca ha bloccato tutti i treni dalla Germania andiamo avanti la Repubblica profughi il no danese ancora ovviamente l'emergenza migranti in primo piano Copenaghen blocca treni e strade dalla Germania Strasburgo dice rispettate il piano Juncker non si può respingere chi scappa dalla guerra la Merkel dice ce la faremo poi di spalla la polemica per quanto riguarda la presenza dei Casa Monica porta a porta sotto processo la RAI e Bruno Vespa l'ira del Partito Democratico e del Campidoglio un'altra vergogna per Roma i vertici della TV dicono cambierà tutto poi c'è l'economia i consumi volano mai così da 5 anni a luglio i consumi si risvegliano segnando un più 0,4% andiamo ancora avanti con la stampa Siria truppe russe in campo fonti libanesi stanno partecipando ai combattimenti a fianco di Assad la preoccupazione degli Stati Uniti rifugiati Juncker chiede solidarietà ma la Danimarca blocca ogni accesso pronto il piano di accoglienza dell'Eviminale due profughi ogni mille abitanti ci sono poi le riforme in primo piano sulla stampa sul Senato il no di Mattarella le urne spinge verso l'accordo sulla riforma costituzionale Renzi è disposto a trattare dietro all'atteggiamento più morbido del Premier c'è la consapevolezza che il Presidente della Repubblica è contrario ad andare al voto anticipato a centro pagina lo sport con questa bella fotografia di Flavia Pennetta Imprese Italia vince anche la pennetta tennis dopo vinci e in semifinale all'US Open è la prima volta nella storia e poi ancora i consumi che ripartono trainati dal turismo più 2,1% in luglio il maggior aumento da 5 anni e poi la polemica per il clan Casamonica in Rai ovviamente e bufera su Bruno Vespa e porta a porta andiamo ancora avanti il sole 24 ore Borse l'Europa corre effetto Tokyo sui distini piazza affare in rialzo Wall Street chiude in rosso sotto la testata troviamo anche qui l'emergenza profughi quote UE obbligatorie la Danimarca blocca treni e strade piano Juncker fondo da 1,8 miliardi per l'Africa di spalla troviamo anche una notizia che riguarda le infrastrutture Anas ha gli investimenti risorse per 2 miliardi dall'accisa sulla benzina dunque questo per quanto riguarda le opere pubbliche e poi la Telecom Bollorè verso il 20% il titolo balza in borsa del 2,8% si riapre il dossier metro web andiamo ancora avanti il messaggero manovra stop alla Local Tax dopo Tasi e Imo sulla prima casa il governo ferma la tassa unica sulle seconde abitazioni il tesoro rivede a rialzo nelle stime per quanto riguarda il PIL previsto allo 0,9% Covcommercio dice a luglio balzo dei consumi più 2,1% e poi i profughi a centropagina la fotografia di uno dei migranti fermati in Danimarca Juncker dice quote permanenti in Unione Europea Danimarca intanto la Danimarca ha chiuso le frontiere Putin e Iran in aiuto invece alla Siria l'editoriale firmato da Giulio Sapelli sempre sull'argomento accoglienza il caos accoglienza appunto il dietro fronte di Berlino che si sceglie i migranti poi il caso porta a porta in questa finestrella la bufera per i Casa Monica in TV e il Tribunale dei Finti Moralisti e ancora a centropagina Roma concorsone dei vigili scandalo per i voti cambiati ricorso al Tar anche elaborati non anonimi e schede scomparse dunque un'altra polemica e un'altra bufera sulla capitale andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali andiamo nel campo del centrodestra con il giornale la politica assalta la RAI Vespa Libero non piace al PD a porta a porta l'intervista ai Casa Monica la sinistra insorge ma i suoi conduttori portavano i boss in studio Nuova Grana il governo si riprende i soldi degli esodati intanto commenta Alessandro Sallusti andiamo ancora avanti Libero le mani sulla tv pubblica RAI l'editto toscano del PD il partito che ha sfregiato Roma ora grida all'offesa perché Vespa ha osato intervistare una Casa Monica la verità è che non volevano si ricordasse la loro vergogna e brucia il fatto che la puntata abbia avuto più ascolti di quella con il Premier dunque questa l'opinione di Libero a centropagine invece una foto di Giampaolo Panza l'ultimo libro l'Italiaccia del 45 era migliore di quella di Renzi andiamo ancora avanti il tempo porta a porta e Casa Monica scoppia il delirio sul clan in tv la politica contro Vespa che fa giornalismo e ascolti record anche diciamo questa l'opinione del tempo in linea con quanto abbiamo letto anche sul libro e il e il giornale di spalla le multe alla Commissione Europea il no ai profughi ci può costare 360 milioni e poi depositata la sentenza tra Calciopoli e Lotito rispunta anche Gianfranco Fini e ancora all'Olimpico puniti 42 tifosi cambia posto in curva dovrà pagare 167 euro perquisizione eccellente intanto a Palermo truffa sulle case dei boss giudici antimafia nei guai ancora sotto la testata l'inchiesta spuntati da aprile scovati in rete il giubileo dei furbetti con 500 bed and breakfast abusivi ancora l'assessore esposito boccia il progetto ciclabili Marino resta a piedi niente gra per le bici andiamo ancora avanti a vedere anche il mattino i nuovi muri dell'Europa si torna a parlare di migranti in primo piano la Danimarca blocca i profughi dalla Germania Putin e Iran asse per aiutare la Siria Budapest cartelli contro i migranti portano le malattie aiuti la Serbia blocca lo spazio aereo alla Russia la polemica ancora per quanto riguarda porta a porta casa Monica porta a porta e scontro il PD o il traggio a Roma Vespa dice lasciateci lavorare andiamo ancora avanti a vedere l'avvenire il cuore e la visione l'Europa adesso c'è Juncker accoglienza senza selezionare i migranti il fatto il presidente della commissione in vita ha scelte coraggiose la storia ci insegna la solidarietà con senso trasversale all'Europarlamento poi c'è un'inchiesta sul caporalato con questa fotonotizia sfruttate nei campi 40.000 lavoratrici soltanto in Puglia questo accade insomma nel sud Italia e per l'economia consumi sprint stop ai fondi per gli esodati più 2,1% a luglio per quanto riguarda gli acquisti andiamo a vedere prima di passare al meteo altre due prime pagine quella dell'unità piccole e grandi imprese il titolo di apertura rapporto simbola CNA sulle piccole e medie imprese segnali di uscita dalla crisi volano export e manifattura secondo in Unione Europea dopo la Germania per aziende con business centrato su innovazione e qualità dunque punta su questo il quotidiano di area di centro-sinistra e poi per lo sport pennetta New York Little Basket in Germania Aru in Spagna la grande giornata dello sport italiano andiamo a vedere anche il fatto quotidiano poi vedremo anche il manifesto la mala politica la solita casta soldi pubblici e niente interesse pubblico il giorno delle quattro vergogne così titola il fatto quotidiano i partiti vogliono incassare altri 45 milioni senza averne diritto perché i bilanci non sono certificati la camera approva il 5 Stelle e Selle chiedono di mettere in calendario la discussione sul reddito di cittadinanza e sulle unioni civili il senato respinge il governo in camera 500 milioni destinati al fondo per gli esodati con la scusa che non erano stati utilizzati e poi il processo penati per le tangenti rosse se i DS Fassino e Sposetti non si costituiscono parte civile in aula per recuperare il bottino e poi c'è anche questa vignetta che riguarda la vicenda Casa Monica il re di Roma prima grana per Campodallorto questo non è servizio pubblico Casa Monica nuovo show da Vespa il DG fa il funerale a porta a porta andiamo a vedere anche il manifesto brevemente per vedere solo la fotonotizia c'è del marcio ovviamente il riferimento e c'è del marcio in Danimarca di stampo shakespeariano con la Danimarca che blocca treni e autostrade per arginare il flusso dei profughi dalla Germania si sposta un po' di più a nord della vergogna dell'Unione Europea reticente all'accoglienza in ordine sparse persino Jean-Claude Juncker è costretto ad ammettere che manca dell'Europa e manca l'Unione dunque questa è la posizione del manifesto andiamo adesso al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org buongiorno a te Giovanni buongiorno Alfredo buongiorno a te e a tutti i telespettatori chiediamo ovviamente l'Umi sul tempo che farà sulla nostra regione a te ma diciamo che rispetto alla giornata di ieri comunque la situazione meteorologica è in miglioramento perché l'intensa perturbazione che ha favorito ha determinato intense precipitazioni ed episodi alluvionali soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria si sta spostando ulteriormente verso Levante e nelle prossime ore favorirà un miglioramento anche sulla nostra regione perché la nostra regione è stata pur marginalmente interessata dal passaggio di questi corpi nuvolosi che comunque nelle prossime ore lasceranno il posto ad ampie zone di Sereno a partire dal Terramano e dall'Aquilano poi in estensione nel corso della mattinata anche sulle restanti zone non cambierà di molto la situazione quindi nelle prossime ore nel pomeriggio ci saranno condizioni di tempo prevalentemente soleggiato con qualche nuvolamento sulle zone montuose nel corso del pomeriggio in attenuazione in serata ma attenzione perché comunque è previsto un nuovo aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio sera a causa dell'arrivo di un corpo nuvoloso proveniente dal Mediterraneo Occidentale che non dovrebbe dar luogo a fenomeni di rilievo ma favorirà degli annuvolamenti tra oggi tra oggi dal pomeriggio sera e la giornata di domani ma non si prevedono ripeto fenomeni di rilievo poi la notizia è che assisteremo a un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nel corso del fine settimana a causa della rimonta di un promontore di alta pressione di matrice nordafricana che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali e quindi favorirà con tutta probabilità anche un progressivo aumento delle temperature quindi si tratterà al momento di una rimonta temporanea che favorirà appunto condizioni di bel tempo anche sulla nostra regione tuttavia c'è da segnalare la possibilità di un nuovo aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata di domenica perché transiterà un corpo nuvoloso ma poi a seguire se la tendenza verrà confermata si prospetta una nuova decisa rimonta dell'anticiclone nordafricano su gran parte della nostra fenomenica e se confermata questa situazione porterà un nuovo deciso aumento delle temperature e condizioni di stabilità nel corso della prossima settimana si tratta tuttavia di una tendenza da confermare nei prossimi giorni al freddo grazie Giovanni mi sembra di capire che questo settembre ci riserverà ancora uno sprazzo d'estate e di temperature calde io ti ringrazio ancora dimmi dimmi Giovanni è probabile che nella prossima settimana avremo un tipo di tempo connotati decisamente stivi anche se ovviamente le temperature non saranno quelle che si registrano nel mese di luglio e agosto insomma quindi però le belle giornate sembrano altamente probabili almeno stando agli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione freddo si allora seguite tutti gli aggiornamenti non solo su mattino 6 ma anche su abruzzo meteo che possiamo vedere in questo istante con la regia di Claudio Di Giacomo poi andiamo a vedere anche i due riferimenti facebook per quanto riguarda gli aggiornamenti meteo questa è la pagina di abruzzo meteo e poi c'è la pagina facebook personale di Giovanni De Palma ovviamente sul social network potete anche interagire con Giovanni Grazie ancora a te Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina e ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Andiamo avanti con la rassegna prima di dare spazio a un break pubblicitario. Andiamo a vedere le prime pagine nazionali per quanto riguarda lo sport. Questa è la gazzetta dello sport. Le due fotografie ritraggono Gallinari e la pennetta, le imprese che ci stanno facendo sognare giganti d'Italia. Questo è il titolo scelto dalla gazzetta. Eurobasket, magico Gallinari, stronca i tedeschi, azzurri qualificati. Poi per gli US Open, super pennetta che doppietta con la Vinci. E poi il ciclismo e la Vuelta, straordinaro, questo è il gioco di parole, maglia rossa 3 secondi ma è favorito. Sotto la testata invece si va verso il derby Milan-Inter. Luis Adriano attacca, io bacca e balo si può. Quindi il milanista vota per il tridente, mentre in casa nero-azzurra c'è ansia per Miranda che rischia. Oggi ci sarà il verdetto. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport. Ovviamente le imprese dello sport italiano in primo piano. Vedete anche qui la fotografia di Gallinari e della pennetta. Invece sotto la testata due grandi attaccanti riaccendono il campionato e rompe Morata. La Juve da rimonta si affida a lui, ha la febbre ma contro il Chievo ci sarà. E poi Zecco di Ferro è già l'uomo chiave della Roma in campo sia a Frosinone che con il Barsa. Verso il derby, ansia Inter-Miranda-KO, gioia Milan per Bacca. Poi la trattativa tra il Napoli e Mertens e vicino il rinnovo e il progetto Parma rinasce Sky Sponsor e Scala Sogna. Andiamo a vedere anche tutto sport rapidamente. Giorni calienti per lo spagnolo, febbre Morata. Colloqui per ritoccare il contratto, così la Juve vuole stoppare il Real. Alvaro fermato dall'influenza, però col Chievo dovrebbe esserci. E poi c'è anche una notizia che riguarda Calciopoli, la Cassazione Stronca-Mogi. Ci fermiamo adesso per il break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come promesso torniamo alle notizie dalla nostra regione. Torniamo dunque sul quotidiano Il Centro. Questa è la pagina Abruzzo. Costa Tiatina, riunione a Roma. Parco l'Abruzzo diviso nel giorno del Via Libera. Dopo 15 anni oggi si decide sull'istituzione dell'ente che lega 10 comuni, ma ambientalisti e sindaci sono ancora una volta su fronti. opposti di Marco di Italia Nostra. D'Alfonso chiediamo di non cedere alle parti più retrive della sua maggioranza e di far emergere la volontà positiva degli abruzzesi. Catenaro, sindaco di Rocca San Giovanni, all'incontro di oggi non siamo stati neanche convocati. Va rinviato perché non si possono imporre dall'alto le scelte. Andiamo a vedere insieme il servizio che riguarda la conferenza stampa proprio delle associazioni ambientaliste che si è tenuta ieri a Pescara. Paolo Lorenzetti. Quello di domani è un appuntamento storico per il Parco della Costa Tiatina proprio perché dopo 15 anni ci troviamo alla conclusione di un ITER che può essere bloccato solo da una manifestazione politica avversa. Certo è che il Parco Nazionale della Costa Tiatina per la sua dimensione economico, sociale, ambientale e culturale è l'unico strumento valido e l'unica realtà vera contro la petrolizzazione in Abruzzo. Secondo noi è un incontro fondamentale ma che non deve riservare nessuna sorpresa perché il commissario ha concluso la sua attività e quindi il Parco domani deve essere licenziato positivamente per andare finalmente alla conferenza Stato-Regioni da qui a qualche giorno, speriamo pochi giorni per poi passare finalmente alla firma del Presidente della Repubblica. Anche se secondo noi non è un Parco ideale, è un Parco sicuramente possibile, ben fatto. Siamo convinti che crescerà nel tempo perché i territori, siccome il Parco rappresenterà un volano per lo sviluppo anche economico del territorio, altri territori vorranno entrarci e diventerà una corsa all'ampiamento. Il vostro giudizio sull'operato del commissario De Dominicis che ha terminato il suo operato poche settimane fa, qual è? Avrebbe potuto fare meglio perché ha ceduto alle pressioni dei sindaci e ha fatto un Parco al ribasso riducendo gli spazi protetti, però tutte le zone di maggior pregio naturalistico le ha mantenute e ha mantenuto l'area costiera e ha fatto un lavoro positivo, sicuramente migliore di quello che ha fatto la politica buzzese in 15 anni di attesa inutile. Manca l'ultimo passo, l'ultimo tassello importante che è quello proprio dell'espressione della politica abruzzese. Domani si capirà se in Abruzzo governa il centro-sinistra o il centro-destra che è stato sempre avverso al Parco. E dunque vedremo cosa accadrà oggi. Intanto la Regione ha detto no all'inceneritore in Abruzzo. L'occasione è stata la riunione tecnica della Commissione Ambiente delle Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove l'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca ha espresso, elencato i motivi del dissenso al decreto che include l'Abruzzo fra le regioni destinate ad ospitare un inceneritore. Nel taglio basso di questa pagina il PD boccia la scelta di D'Alfonso Summicucci, il segretario Rapino, la sua riconferma alla Fira rappresenta uno stop alle politiche di sviluppo. E restiamo ancora alle beghe del centro-sinistra e andiamo a parlare del rimpasto di giunta sul quotidiano Il Messaggero. Rimpasto ci siamo, l'ambiente resta a selle, lavoro a Gero Solimo, D'Alfonso a un passo dall'accordo, i tre dissidenti pronti a votare i fondi per l'istituto musicale abruzzese. Resta aperto il nodo dei punti nascita, trattativa fino a tardi con Sinistra Ecologia e Libertà ci rimette la scrocco a cui restano solo, tra virgolette, le politiche sociali. Dunque questa dovrebbe essere la nuova giunta. Dopo la lunga pausa, 46 punti in discussione, la formazione era quella di sempre, anche se ieri il sottosegretario D'Alessandro si è trattenuto pochi minuti per poi lasciare la sala, quella dove quasi sicuramente non potrà rientrare, almeno per un po', in attesa di poter entrare a far parte in futuro della giunta. E' un'ipotesi questa avanzata dallo stesso D'Alfonso. Andiamo a vedere nel taglio basso della pagina. Bus più 10% sui biglietti, Forza Italia all'attacco d'Alessandro, solo un adeguamento. Subito scintilla in commissione di vigilanza, i dirigenti non calano, il ticket cresce. E di spalla, Walter Tost inaugura la fresa più grande del mondo. Questo nuovo impianto si trova a D'Ortona. Torniamo adesso sul centro. Andiamo avanti con il giornale. Andiamo a vedere una polemica che riguarda le pensioni d'oro. Lavori un mese, ti tocca l'assegno a vita. E' il caso limite di una legge che in Italia riguarda 17 mila sindacalisti pensionati. Scelta civica vuole cancellarla. L'accusa il deputato Teramano Sottanelli. Certi privilegi vanno annullati, le cifre vanno ricalcolate con il sistema contributivo. La stessa cosa dovrà valere per i vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Si difendono i segretari di CGL, Cisle e Will. E' una legge giusta. Chi ne abusa ci danneggia. Questa è la posizione dei sindacalisti. Andiamo ancora avanti. Mobilità e tecnologia rianimano i consumi, così cambia la spesa. Questo è un dato nazionale, ma che ovviamente riguarda anche la nostra regione. Confcommercio miglior dato dal 2010, ma serve cautela. Coda consavverte attenzione alla spinta dei saldi estivi. Andiamo adesso sulla pagina di Pescara. L'emergenza e occupazione in primo piano. Magazzini in crisi, risparmio casa chiude e licenzia tutti. Stop a Città Sant'Angelo, ma il gruppo apre a Montesilvano. E' polemica per la mancata ricollocazione dei dipendenti. La Cisle è preoccupata, qui il settore non riparte. Il commercio, anche se abbiamo visto che ci sono dei dati positivi, secondo la Cisle, non riparte. A dirlo è il segretario provinciale di Pescara, Umberto Coccia, che parla di una crisi piuttosto forte. Un piccolo segnale è stato registrato con i saldi, ma non è sufficiente. All'aeroporto, l'Oshan manda via con l'incentivo 37 addetti, sempre per quanto riguarda i temi del lavoro. E' piuttosto salato il prezzo pagato in termini occupazionali dal centro commerciale Oshan di Pescara Aeroporto. L'intesa tra Ministero, azienda francese e sindacati per chiudere la vertenza sugli esuberi, che vedeva coinvolti circa 1.300 lavoratori a livello nazionale, ha stabilito il principio della non opposizione al licenziamento con un incentivo economico di 30.000 euro. Restiamo sempre alla pagina di Pescara. I conigli abbandonati morti per asfissia, sequestrato l'allevamento di Colle Corvino, le prime risposte dai veterinari della ASL hanno detto che gli animali sono decenuti per mancanza di aria. Poi il mare sporco, la protesta in Parlamento, Vacca Colletti e Del Grosso del Movimento 5 Stelle chiedono accertamenti al Ministro della Sanità. Intanto Amicone ha annunciato una querela nei confronti della Confcommercio, Confcommercio che era stata molto critica nei confronti dei vertici dell'Arta e ne aveva chiesto le dimissioni. Amicone dice che devono smetterla di fare il tiro al piccone contro il primo che capita, basta sparare nel mucchio senza sapere, non si può parlare male dell'Arta per cose che altri non hanno fatto o fatto male, non si può così. L'Arta ha dato mandato a un avvocato di valutare opportune azioni legali. Restiamo a Pescara. Rissabbastonate in strada nel Bronx di Fontanelle. Le urla svegliano il quartiere. Sfasciata l'auto di un residente straneo alla lite, cittadini esasperati da Roma e spaccio di droga. Pettinari torna a lanciare un appello per quanto riguarda Fontanelle e dice che non se ne può più. Il quartiere è uno dei più problematici di Pescara. Da tempo ci si pone attenzione su questo quartiere. Da tempo si chiede un posto fisso di polizia. Insomma ci sono state anche delle polemiche perché in quel quartiere insistono delle case popolari e ci sono sovente problemi di ordine pubblico. Scendiamo in basso nella pagina. La classica pescarese, cambiando completamente argomento, torna alla regata dei gonfaloni. In gara sabato e domenica 13 squadre maschili e 6 femminili. Poi al portoturistico Fedez stasera chiude statica. In tre mesi ci sono state 100.000 presenze. E poi giochi sulla spiaggia. Croce Rossa ha effettuato 57 interventi. Matrimoni annullati in 45 giorni. Cambiamo ancora argomento. Il presidente del tribunale ecclesiastico spiega la riforma voluta da Papa Francesco così la Chiesa riabbraccia i fedeli. L'avvocato eliminare la doppia sentenza accorcerà i tempi e provocherà meno stress. E poi il missionario sparito. Parte l'appello dalla trasmissione chi l'ha visto. Il padre dei Monfortiani parla in televisione e non esclude che il sacerdote sia stato vittima di violenza. L'appello è chissà parli. Andiamo ancora avanti. L'arberghiero in sette sedi, bus navetta per gli alunni. Sono 1.800 gli studenti dell'Istituto dei Cecco, il più grande della regione. La provincia annuncia la fine dei lavori. Tra un anno sospese le proteste dei professori. I lavori di ripristino nel dettaglio. Ex collegio Aterno. 120 i punti in cui sono state effettuate indagini per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco dei solai. Le verifiche sono state effettuate con il metodo a strappo. A fine verifica si è evidenziato un diffuso stato di degrado riconducibile ad una scarsa edizione della malta al supporto. L'indagine ha anche individuato una parziale ossidazione dei ferri dell'armatura del solaio. La nuova dirigente dell'Istituto Alessandra Di Pietro questa è una soluzione tampone e speriamo di avere presto la sede definitiva per quanto riguarda sempre l'alberghiero dei Cecco. E sempre per quanto riguarda le scuole settimana corta e tedesco a Latinozzi nel comprensivo 8 parte anche il programma di alfabetizzazione informatica non si va a scuola il sabato. Andiamo sulla pagina di Montesilvano lavori pubblici per una gara sospetta via Saragatta appalto bloccato dalla DIA ditta di Santa Maria capo a vetere impegnata nel completamento della strada e sotto osservazione da parte dell'antimafia l'assessore Walter Cozzi dice abbiamo dovuto rescindere il contratto entro sette giorni le opere saranno riaffidate ad una nuova impresa di costruzioni. In via Monteverde protestano i residenti perché la strada è al buio fanno appello anche al sindaco dopo aver atteso per anni il manto d'asfalto ora sono senza illuminazione. Le ruspe del comune spazzano i rifiuti e esultano i residenti superato dopo mesi di appelli e pericoli per l'igiene urbana lo scandalo delle discariche in via Lazio e all'ex Monti sempre per quanto riguarda Montesilvano a città Sant'Angelo via della scafa bloccata dopo lo scontro fra due auto a spoltore i genitori no alla scuola Pollaio comitato di Caprara contrario al trasferimento della elementare. disoccupati in crescita nella pagina di Francavilla dell'area metropolitana Manopello e Bassaval Pescara l'allarme dell'ISPEL Francavilla i dati dell'istituto di ricerche Pomiglio tracciano un quadro difficile dalla crisi della crisi del lavoro in città il sindaco il comune ha pochi margini operativi la materna rinviata la riapertura a San Giovanni Tiatino slitta di una settimana per lavori il ritorno in classe alla scuola materna di Dragonara Manopello polemica sulle domeniche senza trasporti dal centro storico bus per Pescara turisti del Volto Santo lasciati a piedi e ancora Francavilla rifezione bus ultimi giorni per iscriversi la pagina di penne di Popoli dell'Alta Val Pescara ora Solve sollecita un accordo entro il 31 ottobre la multinazionale accelera sui tempi per il progetto di bonifica e reindustrializzazione del sito di bussi la provincia di Pescara dice ridotte le richieste di danni per i cinghiali a penne fondi europei vademecum su come spenderli meglio sempre a penne scuola appalto alla ditta campana azienda vince un ricorso ottiene la ristrutturazione dell'apparatore adesso andiamo insieme a vedere sul quotidiano il messaggero la pagina Aquilana Gran Sasso apertura Rebus e l'ora dei veleni durissima la posizione della CGL problemi noti da tempo mancanze gravissime la chiusura sarebbe inaccettabile domani vertice in comune per cercare di salvare la stagione servono 100 mila euro per la manutenzione degli impianti chiedo alla regia di farci vedere adesso il servizio proprio su questo argomento sul centro del Gran Sasso servizio che è stato realizzato dalla redazione Aquilana tempo di recuperare il servizio fermo in regione il piano di sostituzione delle fontari nubi nere sull'hotel dal primo ottobre vediamo se siamo pronti con il servizio non ancora siamo pronti allora andiamo avanti con la pagina vediamo di recuperare recuperare rapidamente anche questo servizio presenze in più albergatori scettici intanto all'Aquila per quanto riguarda il turismo i visitatori non hanno dormito nelle strutture ricettive della città i dati del comune comunicati dal comune sono positivi gli albergatori però sono un po' diciamo preoccupati dal turismo mordi e fuggi che si è verificato nel capoluogo e ancora andiamo con l'emergenza la chiesa Aquilana si mobilita per i rifugiati Don Dante Di Nardo coordinerà gli interventi dipendenti BCC in udienza dal Papa la banca ha erogato i finanziamenti per sostenere le attività sociali chiedo alla regia se abbiamo recuperato il servizio è pronto possiamo mandarlo in onda è atteso per venerdì il verdetto dei tecnici dell'impresa costruttrice dell'impianto di risalita delle fontari sugli interventi da operare per consentirne la riapertura intanto con ottimismo è già partita la campagna degli abbonamenti per la stagione sciistica 2015-2016 sul Gran Sasso ma non è certo che tecnicamente sia possibile procedere alla riapertura dell'impianto dunque lo spettro della stagione a rischio alleggia ancora in alta quota infatti seppure si trovassero i fondi per procedere alla manutenzione ricordiamo l'ultima consentita prima della sostituzione dell'impianto stesso il problema è la tenuta strutturale della seggiovia il direttore d'esercizio Marco Cordeschi è stato chiaro se non c'è la certezza che questo impianto possa essere aperto serenamente rispettando tutte le norme di sicurezza io non consentirò la riapertura sull'impianto infatti devono essere effettuati due tipi di lavoro uno di natura elettrica ed elettronica e uno di tipo meccanico e su quest'ultimo che si attende il parere della ditta costruttrice di venerdì prossimo che chiarirà che cosa si possa riparare dell'impianto e quanto tempo occorra per i lavori il quadro potrebbe dunque chiarirsi all'inizio della prossima settimana il preventivo stimato dal comune per l'intervento di manutenzione si aggira intorno ai 100.000 euro ma si attende con ansia all'ultima parola della ditta costruttrice il comune e il centro turistico del Gran Sasso chiedono la garanzia alla ditta che gli interventi siano sufficienti per la riapertura per questa ultima stagione di vita dell'impianto in tanti in diversi hanno però riposto fiducia nel Gran Sasso acquistando gli abbonamenti in prevendita nel caso in cui non si dovesse riaprire l'impianto assicurano i vertici del centro turistico le somme saranno rimborsate agli sciatori che sarebbero delusi però dalla politica di gestione del Gran Sasso ancora una volta restiamo all'Aquila la DIA le cosche sono ancora qui l'ultimo rapporto getta nuove ombre su numerose attività nel mirino ricostruzione investimenti illeciti alberghi e stupefacenti il clan dei casalesi quello più attivo sul territorio aquilano 5 interdittive antimafia per lavori che riguardano il post-sisma preziose le indagini per le indagini le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia andiamo a vedere adesso la pagina di Chieti sempre restando al quotidiano il messaggero il cuore culturale della città rinasce grazie ai fondi europei lavori di ristrutturazione e riqualificazione per Palazzo Massangeli l'ex cinema Eden l'edificio storico sito in piazza Umberto I potrebbe ospitare il nuovo museo civico previsti anche finanziamenti per affrontare il problema del dissesto idrogeologico di spalla rapina coi coltelli al negozio di animali l'assalto scatta la caccia ai tre uomini che hanno rubato 3.000 euro all'adrizzo di San Giovanni Teatino la nomina Sonia Spinozzi è il commissario scelto per Chieti Solidale e poi l'opportunità è adesso gli infermieri emigrano in Inghilterra andiamo ancora avanti la pagina di Lancianova Stortona via i turisti tornano le prostitute le luci e le danni sono una presenza fissa dei palazzoni in riva al mare i controlli a singhiozzo non le spaventano il ruolo chiave di alcune agenzie immobiliari che fungono da intermediare con i titolari degli appartamenti tutto questo accade a San Salvo a settembre insieme a scuola e lavoro riparte anche il mercato del sesso così scrive il giornale a Lanciano premio Ilaria Rambaldi anche alle tesi in geologia è sempre a Lanciano da oggi fino a sabato la festa del cioccolato restando ancora in città si torna a parlare di migranti il vescovo chiede ai parroci di mobilitarsi saranno subito monitorate tutte le strutture vuote disponibili nelle 42 parrocchie dopo l'appello all'accoglienza di Papa Francesco a Vasto Salesiani dal comune sia all'uso degli impianti a Ortona ad Ottavio perde sel alle auto della prima ora il sindaco impegnato a trovare un nuovo assetto alla sua giunta e poi a Vasto 100 telecamere a fine ottobre questo è il grande fratello che si prepara nella città di Vasto andiamo adesso a vedere le notizie dal Terramano andando sul quotidiano la città andiamo subito a recuperare il giornale e le pagine dedicate proprio a Teramo taglia al sociale i disabili tornano in piazza raccolta fondi per sostenere ricorso al Tar contro la delibera del comune ci hanno solo preso in giro errori ed orrori dopo 40 giorni di attesa di promesse calcoli e revisioni la sostanza è che le famiglie con la delibera comunale perdono il 75% dell'assistenza nel taglio basso tutti i docenti del Braga andranno via statizzati e sepolti presentate le domande di trasferimento in altra sede andiamo avanti capitali all'estero Terramani pronti a farli rientrare sanatoria per chi ha spostato patrimoni illeciti e vuole mettersi in regola con il fisco c'è il protocollo procura agenzia delle entrate andiamo ancora avanti nuovi sensi unici tutto bloccato nel put via Lecavur dovrebbe scattare entro dicembre per corso porta romana si attendono le nuove rotatorie difficoltà in vista dopo un anno di silenzio il comune oggi terrà una riunione di maggioranza sul delicato put di cera la politica Berardini rilancia il baratto amministrativo oggi in consiglio comunale la raccolta firme per il provvedimento a Torricella sicura i migranti preparano le scuole si lavora agli orti dei bambini siamo adesso in provincia punto nascita la decisione slitta ad oggi per quanto riguarda l'ospedale di Atri nel tardo pomeriggio il tar si pronuncerà sul ricorso del comune l'asla non si costituisce a stolfi è ottimista i tagli della regione l'amministrazione comunale assieme assieme ai comitati dei cittadini si batte contro il piano di riorganizzazione della regione che prevede la chiusura di quattro punti nascita uno per ogni provincia abruzzese adesso passiamo allo sport tornando sul quotidiano sul quotidiano il centro andiamo a recuperare la pagina dell'Abruzzo sport la serie B domani ci sarà l'anticipo del Pescara che cambia per risorgere difesa centrocampo e attacco ecco le novità Oddo prepara una mini rivoluzione aspetta di sapere se Memushay è in grado di farcela contro il Perugia davanti Cocco dovrebbe fare coppia con Caprari in porta ci sarà Aresti Fiorillo è squalificato per l'espulsione rimediata nella scorsa partita qui Perugia Bisoli prova la difesa a tre Lanzafame Ardemagni in avanti questa dovrebbe essere la scelta di Bisoli che dovrebbe schierare il 3-5-2 Repetto e Sebastiani ai ferri corti poi sempre restando al Delfino che grana comporre la lista degli over in retroscena del divorzio da esposito e del taglio di Vukusic andiamo invece adesso in casa della Virtus Lanciano al Biondi con Lascoli risolto il problema della deroga e il club bianconero a svelarlo lo stadio alternativo quello di Bari non è stato nemmeno prenotato poi per quanto riguarda la squadra il capitano dopo il K.O. di Vercelli Mammarella dobbiamo riscattarci stessa opinione naturalmente anche da parte del tecnico del Lanciano da Versa che andiamo ad ascoltare nella conferenza stampa bisogna anche cercare una maturità nel senso che non è detto che se uno prenda una munizione per forza di cose deve lasciare la squadra in 10 l'unica cosa che non doveva fare in quella circostanza ripeto perché Pagliere era pronto per entrare è prendere la palla con le mani però in quella circostanza col senno di poi è tutto però sì la sensazione era quella e avevamo già provveduto a far sì che Pagliere devesse entrare adesso buttare la croce addosso a bacino ripeto l'unica cosa che non doveva fare era prendere la palla col braccio però non mettiamo assolutamente la croce sotto a bacino perché l'anno scorso è successo una volta dove ha fatto un gesto dove ha lasciato la squadra in 10 contro il Catani per il resto di tutto il campionato non ha mai avuto un'espulsione io penso che per quanto riguarda la partita dove post gara a Caldo ho detto che molto malamente il primo tempo aveva fatto meglio la Provercelli ripetendo la partita devo contraddirmi perché penso che c'è stata una squadra compatta che ha fatto una trama di gioco piuttosto positiva è stata proprio la Virtus Lanciano è chiaro che siamo stati sotto siamo passati sotto perché comunque abbiamo commesso degli errori perché l'azione delle gole abbiamo commesso 5 piccoli errori ma non possiamo permetterci di regalare perché poi alla fine a parte il tiro finale però prima di arrivare al tiro sono stati commessi diversi errori non ce lo possiamo permettere secondo tempo penso che poi abbiamo recuperato la partita in maniera ottima Eric è entrato molto bene penso che l'inizio della partita era più a vantaggio nostro piuttosto che della Provercelli è chiaro che poi l'episodio dell'espulsione è condizionato la partita ci siamo passati un po' troppo e abbiamo commesso ripeto piccoli errori perché se si va ad analizzare anche secondo me sono piccoli errori di valutazione di scalare da parte di qualcuno è evitabile però sotto l'aspetto della partita non posso dire niente ai ragazzi però il ramare appunto per aver fatto una prestazione buona e non aver portato a casa i punti e intanto per quanto riguarda il mercato l'Ascoli prende il bomber Cacia il presidente Bellini dice conquisteremo la nel giro di 3-5 anni infatti per quanto riguarda l'Ascoli il mercato è ancora aperto perché è stata ripescata la formazione Ascolana al posto del Teramo retrocesso e adesso parliamo proprio del Teramo tornerà al Coni la società Biancorossa per avere uno sconto pronto e ricorso ma l'obiettivo è di diminuire la penalizzazione di 6 punti nell'attuale campionato di Lega Pro è fatta per Vitturini Paolucci e Monni dal Pescara venduti intanto 111 abbonamenti per la Lega Pro in Serie D in questo traviletto multa di 800 euro all'Avezzano così ha deciso il giudice sportivo tornando invece nel Teramano è stata raggiunta l'intesa sul canone dello stadio oggi l'accordo Cantagalli San Nicolò anche i Biancazzurri giocheranno le gare interne allo stadio Bonolis di Piano Daccio sempre per quanto riguarda la Lega Pro dopo il Teramo ovviamente ci occupiamo anche dell'Aquila l'Aquila in vetrina Mancini sembra rinato sono un trequartista non un uomo di fantasia a differenza della passata stagione ora avverto maggiore fiducia specialmente del tecnico e c'è maggiore chiarezza nei rapporti tra i giocatori e la società dunque sembra diciamo rinato l'ambiente aquilano anche dopo la burrascosa stagione appena passata con ve lo ricordiamo l'inchiesta Dirti Soccer che ha coinvolto l'ex DS Ercole Di Nicola poi c'è la Coppa Italia di eccellenza Carrato illude il celano poi il paterno si scatena la partita è finita 1 a 3 a Morrodoro blitz nel finale della Torrese qualificazione al sicuro Morrodoro Torrese partita finita 1 a 3 anche qui andiamo andiamo avanti la Coppa Italia di promozione andiamo a leggere il titolo Vasto Marine e Casalbordino al sorteggio Teramo Penne San Gregorio passano per differenza rete River Casale Barisciano e Pineta Nova a punteggio pieno andiamo avanti e parliamo del volley di A2 Ortonesi al lavoro Borgogno dal bronzo ai mondiali inter 23 alla seco impavida il calendario del precampionato il 23 di settembre primo test a Molfetta il 4 ottobre la presentazione della squadra al teatro Tosti scendiamo nel taglio basso l'atletica cadetti e ragazzi il clu a Chieti nel fine settimana i campionati regionali sulla pista dell'Angelini e poi la bicicletta in piazza Sant'Antonio Bim Bim Bici show a Pescasseroli passerella di giovanissimi alle prese con esibizioni di mountain bike e questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa mattino 6 termina qui tornerà puntuale domani alle ore 7 invece l'appuntamento con l'informazione di TV6 è alle ore 14 e alle 19 con il TG6 grazie ancora per essere stati con noi buona giornata a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti